Cesaro ci avrebbe provato nel primo e l'ultimo minuto, speriamo che veniva a fare una partita intensa, una partita dove non avevano nulla da perdere e non è facile in queste partite, hanno dimostrato subito all'inizio dove ci hanno un po' fatto capire subito che non erano qui a scherzare, abbiamo messo poi forse quei minuti di prof a iniziare la partita, però poi un po' alla volta abbiamo il canale alta giusta e sono stati anche bravi loro, devo dire, a fare dei grandi canestri perché hanno veramente un grande talento offensivo, poi noi siamo comunque stati bravi a stare in partita, a gestire la partita, a tenerla lì e poi alla fine con un po' di questi finali a portarla via, insomma, era importante portarla a casa, lo sapevamo tutti che dovevamo vincere e non c'erano altre possibilità e adesso andiamo a provare a vincere Brescia per evitare queste cannellate.